Se l'inflazione porta la Sardegna al secondo gradino del podio in termini di aumenti generalizzati che colpiscono i beni e i servizi di prima necessità, iniziando dagli alimentari, l'isola e i tacchi della classifica delle regioni italiane per reddito pro capite con una media che supera di poco i 16.000 euro vicino alla Sicilia, seguita solo dalla Calabria. La metà dei Sardegna la pena raggiunge 15.000 euro. I numeri diffusi dal Ministero delle Finanze dipingono una Sardegna con redditi sotto soglia ben più bassi delle regioni del nord che viaggiano con redditi pro capite decisamente superiori e con Lombardia ed Emilia-Romagna a occupare i vertici della classifica. Al nord la media va dai 26.000 e 23.000 euro, l'isola come detto si ferma a 16.000. E se i sussidi sono stati un salvagente per molti, quanto inciderà il taglio del cuneo fiscale sui sardi? Poco e nulla è la risposta che arriva dalla segretaria generale della CGL Gallura, Luisa Di Lorenzo. Il tetto messo a disposizione del governo, poco più di 3 miliardi di euro spalmato sui lavoratori di tutto lo stivale, si traduce in una manciata di euro per busta paga, massimo il 4% per chi non arriva ai 25.000 euro annui. È il caso della Sardegna. Banca Italia e Corriere della Sera fanno i conti della Serva. Nel caso in cui ci dovesse essere un ulteriore taglio dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore dipendente di un punto, in busta paga arriverebbe un miglioramento netto pari a poco meno di 10 euro ogni mese per i redditi, fino a 15.000 euro, poco più di 16 euro per i redditi, fino ai 35.000 euro.